Oggi continuiamo la nostra ricognizione fra i pensatori italiani del 1800 parlando di un filosofo educatore italiano e presbitero, nonché scrittore e poeta, Paolo Emilio Tulelli. Tulelli fu famoso per l'opera educativa e pedagogica che svolse a Napoli durante quel ventennio che Benetto Croce chiamò il ventennio aureo napoletano per quanto riguardava la cultura e perché fu anche l'istitutore di un istituto privato, di una scuola privata a Napoli, città dove visse a partire del 1839, all'età di 28 anni si trasferì a Napoli, dove compì studi filosofici e nel 1855 aprì nella stessa città appunto una scuola privata dove insegnò per oltre vent'anni filosofia morale ed estetica. Le autorità, quando Tulelli chiese di aprire la scuola privata, andarono dal Vescovo di Catanzaro, Tulelli era di origine di Zagarise, antico borgo nei pressi dei boschi della Sila, e gli chiesero informazioni sulle dettagliate notizie in merito alla figura di questo presbitero. Il Vescovo di Catanzaro fu lapidario, disse stiamo parlando di un elemento di condotta soda, casta e onesta. Subito l'istituto privato napoletano di Tulelli fu frequentato dai figli dell'alta società napoletana, fra cui figuravano anche i figli del re Borbone, che in segnistima fecero dono a Tulelli di un orologio da camera di manifattura francese, opera dei fratelli Japy. Tulelli fu amico di Luigi Settembrini, il patriota, che lo citò anche nella sua opera Lezioni di letteratura italiana, gli trasmise l'amore per la filosofia e gli ideali patriottici e fu allievo del filosofo Pasquale Gallupi, del quale studiò e diffuse il pensiero evidenziando nel parallelismo con quello di Kant. Ma Tulelli divulgò anche il pensiero di filosofi meridionali, tra cui Giovanni Battista Capasso e Tommaso Rossi. Nel 1860 Tulelli iniziò a insegnare filosofia morale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dietro l'impulso di Francesco De Santis. Nello stesso anno cadde il Regno di Sicilia e Tulelli, favorevole, non si sconvolse perché era favorevole alla formazione di uno Stato unitario e portò avanti una battaglia a livello morale e giuridico per l'abolizione della pena di morte, che fino ad allora era ancora in vigore in tutti gli stati d'Europa, tranne, lo ricordiamo, il Gran Ducato di Toscana. La pena di morte sarà poi abolita con l'adozione del Codice Penale del Regno d'Italia nel 1889, meglio noto come Codice Zanardelli. La fine della dominazione borbonica fu vista da Tulelli come un'occasione di rinnovamento sociale e morale ed egli stillò nei suoi insegnamenti la consapevolezza che il rinnovamento politico dovesse essere accompagnato a quello morale. Tulelli riscontrava nella popolazione un'evidente scarsità intellettuale, un sentimento religioso che si manifestava mediante pratiche di culto sempre più lontane dall'essere ricchi di valori spirituali e una società sempre più formalista e quindi Tulelli cercò di contrastare questa tendenza esteriore, esterna, effimera in affinità al pensiero del filosofo Vincenzo Gioberti al quale vi rimandiamo nel podcast dedicato. Paolo Emilio Tulelli fu patriota, fu un cattolico liberale, la sua attività di pensatore fece sì che la sua notorietà e la sua reputazione crescessero, fu un oppositore dei Begriffi, i famosi e celebri egheliani napoletani, fu uno dei principali oppositori degli spaventiani e fu rappresentante di quel movimento filosofico del quale nella prima metà dell'Ottocento fecero appunto parte il già citato Galluppi, Ottavio Colecchi, Stefano Cusani, Vincenzo di Grazia, eccetera. Tuttavia non dimenticò la sua città di origine di Catanzaro a cui dedicò libri per la costituzione e biblioteca pubblica auspicando che il suo gesto potesse rappresentare un'esortazione a contribuire al suo ampliamento. una volta istituita da parte di altri uomini generosi avanti alla cultura, il Comune di Catanzaro accettò il legato e si legge in un estratto del testamento di Paolo Emilio Tulelli le seguenti parole, cito Volendo lasciare una prima testimonianza di affetto alla città di Catanzaro, dove ebbi i primi semi del mio sapere e le prime aspirazioni alla libertà della patria italiana, leggo al comune della città, i miei pochi libri col fine espresso ed incondizionato di formare il primo fondo ad una biblioteca pubblica da affondarsi in loco adatta a vantaggio della gioventù studiosa e dei cultori della letteratura e della scienza. E altro estratto fondamentale del testamento, cito Col fine di promuovere e favorire nel mio nativo comune di Zagarise l'educazione morale e l'istruzione letteraria e scientifica e così sospingere quei miei concittadini sulla via della civiltà, istituisco un monte o istituto per l'educazione ed istruzione dei giovinetti di detto comune da elevarsi dal real governo in ente morale e giuridico con la dotazione di Diannu Elire 2000 di rendita al 5% iscritta al Gran Libro dei Reni d'Italia. Quindi Tulelli fu un pensatore, fu allievo di Galluppi, quindi fu un pensatore cattolico, fu un patriota, fu un anti-egheliano, sicuramente non più affine al pensiero kantiano, ma fu un grande educatore e la sua città e Napoli possono, naturalmente al comune di Zagarise in data 27 luglio 2017 gli fu eretto un busto creato dallo scultore Mario Calveri, per ricordare appunto questo grandissimo uomo, questo presbitero, filosofo, ma educatore italiano grazie al quale anche, come dire, le persone menambienti hanno potuto raggiungere, come dice lui, sospingere quei miei concittadini sulla via della civiltà. Con questa grande figura di educatore italiano vi salutiamo, vi suggeriamo di iscrivervi al canale Simone Bulleri, lasciare un like, un commento, un'esortazione, un consiglio, qualsiasi cosa, e vi rimandiamo al prossimo podcast che sarà dedicato alla figura di un altro grandissimo intellettuale dell'Ottocento italiano, Giovanni Torlonia. Grazie della cortese attenzione al prossimo podcast.